Alla seconda sagra dello zafferano qui a Ripacandida, voluta, organizzata dall'azienda agricola di Donatello Chiarito, abbiamo una chef, e sì un importante chef, una persona che ha competenza, che ha molta esperienza e che da tempo, da sempre, ormai è diventata una sua battaglia, promuove quella che è la cucina tipica lucana in tutta la sua genuinità. Silvana Colucci, Silvana, buonasera, grazie per questa chiacchierata perché so che tu ci darai tante informazioni utili. Prima abbiamo parlato di pasta, la pasta fresca, la pasta fatta in casa, ma quanto è importante oggi in cucina utilizzare prodotti naturali, genuini e di ottima qualità? Quali anche lo zafferano di Donatello? Prima di importanza, prima di tutto, perché parliamo di salute, di sostenibilità e quindi è l'elemento principale della cucina. Poi, come dicevamo, per una cucina innovativa non si può avere una cucina innovativa se non si ha rispetto per la tradizione. Quindi, come hai detto bene tu, io faccio cucina tradizionale, però amo le spezie, amo il nostro territorio e mi piace valorizzare i prodotti. Con Donatello collaboriamo oramai da oltre quattro anni e ho imparato a conoscere i segreti e le virtù dello zafferano. Non per niente nell'Antico Oriente la chiamano l'erba la spezia del buon umore perché ha effetti benefici sul sistema nervoso e su tutto il nostro corpo. Le caratteristiche, invece, fondamentali, necessarie, i benefici dello zafferano, quali sono? Allora, è l'erba, come diceva, la pianta proprio del buon umore perché va a influire sul sistema nervoso. Quindi è utile anche per chi ha stati di depressione. Quindi, è proprio dagli studi che hanno ultimi, recenti studi sull'Alzheimer, hanno riscontrato gli effetti proprio positivi della tisana allo zafferano per, non diciamo una cura, però per alleviare un po' gli effetti dell'Alzheimer. Grazie a questa collaborazione con Donatello Chiarito, tu hai cominciato, hai imparato a utilizzare questo lo zafferano così prezioso perché è tanto genuino quanto ha spiegato già Donatello e sappiamo che poi viene prodotto qui e quindi ecco non è nulla di industriale senza non aggiunge niente, è lavorato tutto a mano, i fiori uno per uno. Tu hai imparato ad utilizzarlo in cucina, ecco, e quindi hai imparato anche a usare le quantità, le giuste dosi, con quali farine si abbina? No, no, hai detto bene tu, perché spesso noi ci facciamo ingannare dal prezzo. Allora una bustina commerciale di zafferano la paghiamo sulle 3 euro, ma di quella bustina c'è solo il 20% di equivalente di polvere di zafferano. Donatello invece ci offre lo zafferano in pistilli che è puro al 100% biologico e messo in infusione come io l'ho messo adesso in infusione da ieri in acqua calda e l'ho messo e l'ho ottenuto poi in frigo dopo per tante ore. Ha triplicato l'effetto, quindi diciamo da una dose se ne ottengono tre. Quindi con lo stesso prezzo abbiamo ottenuto il triplo del risultato con un ingrediente 100% naturale. Dicevo prima, con che tipo di farina? Allora con la farina di semola di grano duro e l'abbiamo abbinata al cavatello, quindi facendo questa pasta aromatizzata allo zafferano. Senti Silvana, io ne approfitto naturalmente della tua presenza anche per conoscere un po' una ricetta fatta con lo zafferano, anche perché so che è un po' complicato abbinare un po' quelli che sono i condimenti con lo zafferano perché altrimenti si va a coprire il sapore stesso dello zafferano che sappiamo non è molto forte, quindi non vanno molti condimenti soprattutto il pomodoro, è vero o no? Sì, perché il pomodoro contiene anche agenti, è un antiossidante quindi con lo zafferano non lega bene. Io l'abbino principalmente con i funghi, sempre solo con l'olio e la salsiccia. È un piatto che ho fatto ultimamente, che ho vinto il premio 5 stelle d'oro della cucina, l'ho chiamato Volturoro perché sono dei nidi di tagliatelle allo zafferano con funghi porcini, noci e pistacchi con una vellutata di zafferano. Grazie, buon lavoro! Buon lavoro!